Ho il piacere di accogliere qui nel nostro salottino di Sanremo Sol, lui attenzione, Giorgio Manetti! Ciao Vittoria, buongiorno a te e chiaramente ai telespettatori, è un piacere essere qui e grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato, per averci dedicato un po' del tuo tempo. Allora, parto subito con la domanda scomoda così ce la togliamo e poi entriamo in carreggiata. Da 2015 al 2018 sei stato naturalmente protagonista di Uomini e Donne, tutti sanno a conoscenza della storia con Gemma. Sì, incredibile. Adesso? Adesso che sono uscito, mi hai detto tu appunto quattro anni fa, adesso siamo nel 2022. Con Gemma più niente, archiviata la questione. No, non mi sono più sentito da quando sono uscito dal programma, ma neanche quando ero dentro ci sentivamo. Amore e odio. Non ce l'ho con Gemma, diciamo. Però è lì da 13 anni, Vittorio, 13 anni, fatti una domanda, voglio dire cerco l'amore, ho capito. Però insomma, se può stare ai 25 anni a cercare un amore, l'amore si trova dappertutto, no? Può essere, può essere che tu abbia ragione. Sì. Senti, allora, adesso ormai Uomini e Donne è un'esperienza che fa parte del tuo passato, felice, ma ormai l'abbiamo archiviata. In questo momento tu ti stai dedicando, si può dire, alle televendite? In questo momento sì, praticamente sul Canal Italia ogni martedì e ogni giovedì. Che però, ecco. In diretta, non è registrato. Tu eri il mercoledì e mi sei stato spostato, mi sono documentata. Esatto, esatto. Mi sono documentata. Mi sono documentata. Esatto, però sono sempre sul Canal Italia. Che però sono anche un po' delle storielle, perché voi intrattenete il pubblico. Sì, perché uno si aspetta come? Tre ore di diretta, una televendita, ma che uno cambia canale dopo cinque minuti. Non è così, Vittoria, perché è uno spettacolo. È una spettacola. È una televendita show, si scherza in diretta anche con le persone che ci chiamano in diretta. E Serena Martinelli, la mia, praticamente, la presentatrice, diciamo così, dei prodotti che vendiamo, sta allo scherzo, perché è toscana anche lei, via regina, quindi in Toscana, lo sai, Vittoria, si scherza sempre. Adora. Senti, cosa vorresti fare, oltre appunto a questo progetto che hai? Come sai, io ho prodotto, interpretato e sono stato anche coautore di un cortometraggio, tutto un americano di 30 minuti, stato nel 2020 praticamente, finito di, no, di la produzione e tutto, su YouTube, è Killer for a Friend, ma è tutto un americano, Vittoria, tu sai benissimo l'inglese, quindi lo puoi, a parte ci sono i sottotitoli. Fatta quell'esperienza, sembra sia piaciuto a qualcuno, Alessandro Ingrà è un produttore, regista che mi ha chiamato per questo Uno Strano Weekend al Mare, che c'è stata la prima proprio ieri. Ah, che aspita, congratulazioni! Il 2 abbiamo fatto una cosa privata, no? Il 2 febbraio. Sì, esatto, abbiamo un cinema a Firenze, il 3, era ieri, è uscito insomma nelle sale, a Firenze, poi a Casetta, sì, è una commedia un po' thriller, però ecco, fatta da Toscani, bene? Esatto, quando mi chiamò Alessandro Ingrà mi disse, Giorgio, ho bisogno di un personaggio come te. Ah sì? E che personaggio deve essere? Ilare? No, cioè elegante, educato, una fine, bene, e cosa dovrei, che parte dovrei interpretare? Il capo dei delinquenti, va, perfetta, perfetto. Perfetto, per fare una citazione calcistica. Va bene, allora, Giorgio, noi ovviamente non possiamo che augurarti il meglio. Grazie. Ti ringraziamo per il tuo tempo e ci vediamo prossimo anno, eh, devi tornare a trovarci. Assolutamente, lo metto anche prima, poi ti seguirò. Grande. Giorgio Manetti, grazie. Grazie. Ciao.